Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi spiego perché dal punto di vista di crisi, dal punto di vista di spianatura, il peggio secondo me non è passato ma deve comunque ancora arrivare. Prima di essere un po' pessimista, ma più che pessimista è realista, vi ricordo l'appuntamento, almeno stiamo fra di noi, visto che comunque settimana scorsa ci siamo divertiti come pazzi. Quindi facciamo il pranzo di Natale alla Quercia, vi aspetto sabato questo, che arriva 16 dicembre, sabato, pranzo di Natale con lo stinco di birra, stinco la birra, stinco di maia la birra e poi facciamo un po' di tombolate, ne faremo più di una visto che comunque il pranzo di Natale io staremo lì un po' fino pomeriggio tardi. Comunque cominciamo a mezzogiorno, via Franchini 5, ok, a Mendriso, vi aspetto sabato, ragazzi almeno ci facciamo un po' gli auguri di Natale. Poi io sono lì tutti i sabati però più o meno, ragazzi, da gennaio, comunque dopo penso che chiuderanno, comunque sabato facciamo il pranzo di Natale, comunque vi aspetto ragazzi che almeno ci facciamo un po' di compagnia. Sul discorso, sul discorso diciamo della situazione perché il peggio deve ancora arrivare, mi hanno mandato, ho visto, mi hanno mandato un video fatto da uno, un video un po' l'ambrenedettiano direi, dove fa vedere come i prezzi, il costo della vita sia comunque fortemente aumentato per quanto riguarda i generi alimentari. Devo dire che anche all'estero anche lì la situazione è aumentata, però per esempio per quanto riguarda la Germania non ho visto degli aumenti così esagerati, ci sono stati ma non così esagerati. Da noi veramente oggi andare, una volta andavi al supermercato, non è che uscivi con tantissimi prodotti per modo di dire, andavi a un discount e magari con 50 euro facevi comunque una spesa abbastanza, non dico decente, ma con 50 euro qualcosa compravi. Oggi arrivi e ti trovi, che ne so, l'uva, confezione di uva, mezzo chilo, che non so da dove arriva, 4,99 euro, le pere 3 euro, quell'altro 4 euro. Cioè praticamente solo con frutta e verdura hai già speso 50 euro e non hai iniziato con la carne e con tutto il resto. Il peggio deve ancora arrivare perché i tassi di interesse sono ancora altissimi, quindi le banche centrali non hanno assolutamente iniziato a ridurre quello che è il costo del denaro. Lo hanno fatto per cercare di calmerare un'inflazione grandata a doppia cifra, cosa che io avevo previsto. E si sta un po' rivedendo quello che è successo nella famosa crisi post-29 negli Stati Uniti d'America. Quindi abbiamo salari abbastanza fermi, se non direi fermi, poi in Italia non si accorgono di nulla. Mentre in Francia e in Germania ci sono sciopri, in Italia cosa gliene frega di lamentarsi per gli stipendi bassi. Prendono già fin troppo rispetto alla Germania, cioè in Italia prende il doppio di stipendi rispetto alla Germania. Quindi perché protestare per gli stipendi? In Italia si prende il doppio, guadagno il doppio in Italia giusto rispetto alla Germania, per la vita economica. Vabbè, sto facendo un po' di ironia. Ma sì, ma da noi l'importante è il calcio, il calcio, la partita, eccetera, eccetera. Quindi stavo dicendo che, per quello che arriverò a dirvi che il peggio deve ancora arrivare, perché sto unendo un po' tutte queste cose. Prezzi folli, tassi di interesse alti, contrazione economica che ha portato comunque al ribasso del gas e della luce, ma non nella bolletta, perché è tutto fatto da tasse. Cioè, la cartina di tornasole è il prezzo della benzina, dove i nostri amici, l'amico che va a fare benzina, l'italiano medio dice, ah, però adesso costa 1,70, 1,73, prima era quasi 2 euro al litro. Sì, peccato, peccato che il prezzo del petrolio è crollato di 30-40 dollari. Peccato che quando il prezzo del petrolio stava a 150 dollari anni fa, il prezzo della benzina era 1 euro e 30. Adesso che siamo al 50% in meno, siamo a 70 rotti, il prezzo del petrolio dovrebbe costare, se a 150 dollari costava 1 euro e 30, a 70 dollari dovrebbe costare 65 centesimi la benzina, più o meno. Più o meno, sì, quello che dicevano, poi ognuno dice no, aboliremo, faremo. Nel momento, nel mentre continuano sempre a mettere l'età pensionabile, la gente va a lavorare sempre più anziana, i giovani sempre più a casa, ma soprattutto questo alto tasso di interesse del costo del denaro che provoca comunque delle situazioni di spianatura, non hanno intenzione né di diminuirlo, ma soprattutto questo sta provocando una anche contrazione delle compramenti ed immobiliari, che non si è ancora ripercorsa sul discorso dei prezzi, perché i prezzi seriamente scendono se, ed è successo in passato, se abbiamo tassi molto alti e abbiamo un discorso di recessione, perché la gente allora lì non è più in grado. Recessione, perdita di posti di lavoro, gente che non è più in grado di pagarsi, un po' come ci è successo nel 2008, quando c'è stata la crisi del mutui sur prime, l'America, eccetera, eccetera, che ha colpito fortemente la Spagna, anche l'Italia, eccetera, eccetera, tanto è vero che poi il vero crollo, anche a livello di prezzi, è stato dal 2011 al 2015, quindi due anni, tre anni dopo, è esattamente l'inizio della crisi, 2011-2015, che è partita nel 2008, quindi tre anni dopo. Se da noi, diciamo, abbiamo iniziato questa situazione ciclica di crisi nel 2000-2001 e nell'ultima crisi, se poi vista la coda partita dal 2011 al 2015, potrebbe essere, quindi tre anni dopo, stiamo parlando del 2024-2025, quindi per quello che non sono per nulla ottimista. L'economia è molto ferma, gli ordinativi, a livello anche industriale, sono molto fermi, c'è in giro una bella aria a livello economico proprio di spianatura, supportata poi da un discorso di carovita allucinante. Cioè, oggi vai, uscesci e ti trovi che costa tutto desideratamente folle. Poi, miracolosamente, l'unico posto che ha tenuto un po' è Barostre e la Quercia, che essendo in Svizzera comunque abbiamo prezzi italiani, però fondamentalmente, a parte di qualche, qualcosa, macchia di leopardo, i prezzi veramente sono diventati folle. Per quello che, con tassi ancora alti, con tassi ancora alti e con una contrazione così economica, penso che gli anni, diciamo, peggiori arriveranno al 2024-2025. Dunque, e a livello, se qualcuno ha un po' di cash, di prendere casa, forse i prezzi migliori si troveranno dal 2024-2025, secondo me. Dove, io stavo vedendo addirittura adesso, in alcune zone, a pochi minuti da lecco, ho visto appartamenti già a 25.000 euro. Buoni, buoni. Probabilmente gente che, non lo so, è stata spianata, sarà una seconda casa, però non nei centri abitati. Però, secondo me, queste opportunità aumenteranno sempre di più, perché la gente è sempre più, secondo me, in crisi. Ovviamente la crisi non la vede chi ha la pancia piena. Ciao a tutti ragazzi, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Vi aspetto sabato, sabato 16, ok, vi aspetto questo sabato 16 al Bar Osteri alla Quercia, da mezzogiorno in poi siamo lì, ho capito? Ho capito ragazzi per il pranzo di Natale, vi aspetto ragazzi e ci divertiamoci anche il milionario, eh, e un po' di amiche. Arriva anche la mia amica del Kazakistan, la Olga. Grazie a tutti. Grazie.